Silicata vincerà la decimedizione di Pochi d'Italia. Silvana, insomma, sta a te. Vediamo se riuscirai a superare il punteggio di Mariana. Che stiamo? Gennaro, tu che ne pensi? Beh, penso che questo sia proprio il pollo della domenica. E' un pollo che arriva sul tavolo di una famiglia e rende tutti felici, fa sorridere tutti i commensali, perché è buono, perché ti emozioni. Sai che per una volta siamo d'accordo? Che dici, Gennaro? Andiamo insieme? Sì. Silvana, il tuo pollo ripieno alla Lucana, per noi vale... Dieci! Due, dieci! Non è mai accaduto? E allora, con il punteggio di 37 a 33, il vincitore di Pochi d'Italia è la possibilità di Silvana! Complimenti! Silvana, stai qua con me, non ti muovere! Silvana, tu sei la miglior vuota regionale d'Italia! Vinci, dieci mila euro, i gettoni d'oro e sedi, l'orgoglio di tutta la Basilicata! Questa vittoria la dedico alla mia famiglia, a mio marito, ai miei figli, a mia mamma, a mia suocera, ai miei cognati, ai miei fratelli, a tutti, perché comunque mi hanno sempre sostenuta ed incoraggiata. Sono veramente al settimo cielo, sono proprio felicissima ed orgogliosa. Con voi ci vediamo presto, perché, si sa, i buoni d'Italia non finiscono mai!